Sì, adesso da quando inizia la bella stagione fino a dicembre-gennaio faremo 3-4 partite Milo, dal grande fratello, oggi invece avete a che fare con una cosa veramente importante Meno male, vuol dire che a parte stronzate ho fatto qualcosa di positivo nella vita Senti, quanto è importante fare questo? Molto, molto, molto importante, sono una persona che crede molto alla beneficenza Se poi è fatta bene, portare un sorriso alla gente Posso dire una cosa vera? Vero, posso girare? E' il primo che è arrivato è stato lui E' il primo, stava già qua No, ha dormito proprio qui E' dormito qui, si andava pure a giocare a pallone No, mandava, c'era giù Ti sei fermato, hai preso altre attività Perché ti sei visto molto poco ultimamente che parlo Sto scrivendo un programma per Rai1 Però lo firmo, non lo faccio Quindi da autore? Sì Quindi vedremo Milo da autore No, vedete un programma che firmo anch'io Che scrivo io e lo firmo anch'io Quindi già qualcosa Già la simpatia è un'arma e tu c'hai quell'arma che è Bello Inquadra, per favore Puoi inquadrare Inquadra, vi è qua, vi è qua, vi è vicino a noi Allora, mi è stato chiesto di far vincere gli avversari E ho detto 15.000 euro con tanti non tracciabili perché c'è la finanza e tutto Sono due ore che Ma è uguale Sono due ore che mi gira intorno e dice sto rimediando, sto rimediando La partita non inizia, te lo dico A 7.5 potremmo chiudere Te faccio uno sconto, va bene, 7.5 Va bene, 7.5, ok